Palermo candidata a capitale europea dello sport 2016. Inizia il nostro viaggio nelle infrastrutture sportive palermitane con la denuncia del consigliere De Filippis. Edoardo De Filippis è consigliere settima circoscrizione del comune di Palermo. Abbiamo visto un po' come la struttura sportiva è qua a Palermo e Palermo è candidata come capitale dello sport nel 2016. È una candidatura realistica o impossibile? Un libro dei sogni? Ad oggi è un libro dei sogni, ma è un libro dei sogni da dieci anni, da quando appunto il Palasport è in queste condizioni e anche gli impianti sportivi sono inagibili. Noi abbiamo constatato oggi insieme le reali condizioni dell'impianto e veramente c'è da sentirsi male, manca tutto. Io ribadisco quello che avevo detto nelle settimane scorse, qui ho l'amministrazione comunale, prendo un impegno serio nel senso che comunque invece di fare programmi destini questi soldi per riqualificare l'impianto oppure si parta con un bando pubblico che destina al privato l'utilizzo del Palasport e degli altri impianti sportivi perché sennò Palermo da qui a dieci anni non ha più un impianto agibile che possa permettere anche di sviluppare lo sport e le società palermitane. Giovanni Dragna, Presidente Commissione Sport della settima circoscrizione. Quali sono le proposte e le intenzioni della settima circoscrizione per quest'area? Allora, prima di tutto ci aspettiamo quando ci riuniamo tutti insieme della Commissione allo sport e dopo valuteremo i problemi che ci sono nel territorio, sperando con l'amministrazione comunale di Orlando di risolvere qualche problema.